Bene, bentornati oggi in questo nuovo video dove andremo a parlare di un pappagallo più unico che raro. Ho avuto anche difficoltà nel fare questo video perché ha così tante particolarità che non so neanche da quale partire per descrivervelo e le immagini che state vedendo qua sullo sfondo sono relative alla Nuova Zelanda e quindi sì, spoiler, viene proprio da lì e oggi andremo a parlare del terrore delle montagne, il Kea. È un pappagallo proveniente quindi dalla Nuova Zelanda, come abbiamo detto, soprattutto da alcune zone montane, quindi vive in montagna, cosa stranissima se parliamo di pappagalli, e anche in questo caso Kea non è il suo nome scientifico, ma questo nome deriva dal fatto che emette un verso che sembra che pronunci questa parola. e anche in questo caso il verso è potentissimo, questi bestie urlano come matti, ma è conosciuto anche con altri nomi come pagliaccio di montagna o lupo piumato. Bene, quindi buttiamoci alla scoperta di questo pappagallo partendo dalle caratteristiche fisiche. Quindi si tratta di un pappagallo di medie e grandi dimensioni, anche in questo caso 46 cm di lunghezza, quindi, beh, un bel pappagallotto. E consideriamo il fatto che è molto robusto, visto che vive principalmente a terra, e quindi ha queste zampe particolarmente sviluppate e poi questo corpo particolarmente, diciamo, tozzo e robusto. È un pappagallo molto grezzo, eh, non è così proprio bello da vedere, diciamoci la verità, un cosigno verde, diciamo più affascinante, diciamo così. Il becco, diciamo, ha una parte veramente importante, perché la differenza tra maschio e femmina, quindi il dimorfismo sessuale, si basa proprio su quello, in questo caso, perché i maschi hanno la mandibola superiore del becco particolarmente sviluppata, quindi più lunga, più grande, più larga, più robusta, quindi in pratica hanno il becco più grande e le femmine un po' più minuto. Poi per il resto non c'è grandi differenze, abbiamo una differenza tra la fase giovanile e la fase adulta per il colore del contorno del becco e degli occhi, che nella fase giovanile è di un giallo arancio, mentre gli adulti è tendente al grigio. Questi pappagalli hanno un piumaggio di color verde oliva, quindi che ricopre la maggior parte del corpo, ma abbiamo anche del piumaggio rosso, diciamo sotto le albe, un accenno di colore che ci ricorda un po' la sua origine di pappagallo, perché se no lo vede e dici, ma cos'è questo coso? Però la particularità più grande di questo pappagallo sta nell'alimentazione, quindi non tanto è che un pappagallo che vive in montagna, che già è strano di suo, però vabbè, non la forma del corpo che, sì, è un po' grezzo, è un po' strana, però vabbè, ci può stare, ma l'alimentazione davvero stravolge l'idea che abbiamo di pappagallo, perché è un pappagallo onnivoro, ma che predilige, diciamo, quando capita la carne, quindi tendente quasi al carnivoro. Non ti dico che è carnivoro, però, diciamo, apprezza molto la carne, soprattutto questo tipo di alimentazione dipende dal fatto che vive in montagna, ma ci arriviamo. L'alimentazione di questo pappagallo è molto varia, quindi va da germogli, foglie, fino a insetti, piccoli mammiferi come topi, a mammiferi anche un po' più grandi, e poi lo vediamo, ha uova di altri uccelli, quindi devasta i nidi dei poveri corvi che abitano da quelle parti, mangia anche i pulcini, naturalmente, non è che mangia solo le uova, e neanche le carcasse gli fanno schifo, infatti molti Kea vengono visti pasteggiare su carcasse di animali morti. Su questo c'è anche una leggenda, che, diciamo, rimane un po' una leggenda, perché non ci sono proprio vere e proprie prove a favore, del fatto che i Kea siano così intelligenti, che effettivamente è un pappagallo super intelligente, siano così intelligenti e furbi da spingere il greggio di pecore, o comunque grossi animali, grossi erbivori, giù dalle scarpate, quindi spaventandoli, disorientandoli, poi sticcato giù dalle scarpate e loro poi se li vanno a mangiare. Molto, 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 molto teorica come cosa, però diciamo che ha dei fondamenti di verità, e ci arriviamo subito. Sono stati visti dei Kea approfittarsi, in alcuni casi, di animali anche di grosse dimensioni, come ad esempio pecore, che magari erano un po' indebolite per vecchiaia, per magari si erano infortunate, e in alcuni casi questi Kea si aggrappavano, proprio montavano sulla schiena di queste pecore e iniziavano a mangiarle vive, quindi piano piano levavano tutta la lana e poi arrivavano alla carne. È una cosa assurda, se ci pensate è un pappagallo questo, ed è finito a mangiare viva, guardate, questa povera pecora. Potete bene immaginare che questo ha creato dei grossi problemi con gli allevatori, ma anche qui ne parleremo dopo. Quindi, dicevo, l'alimentazione di questo pappagallo è così particolare per via dell'ambiente in cui vive. È un pappagallo che vive in montagna, di conseguenza deve accumulare grasso, calorie, per resistere al freddo invernale, perché sennò poi si diventa un ghiacciolo. Quindi deve accumulare tante energie per sopravvivere ai freddi inverni che caratterizzano quelle zone. La sua alimentazione, diciamo, dipende principalmente da quello. Non penso che si diverta, forse sì, chi lo sa, a scuoiare vive le pecore. Quindi, diciamo, un pappagallo che si alimenta di tutto quel che può trovare, in alcuni casi va a ciulare le patatine ai poveri turisti, come in questo caso, molto simpatico, e continua comunque a chiamarlo pagliaccio di montagna. Ma ho accennato il fatto che questo pappagallo è molto intelligente. E infatti sembra che sia di un'intelligenza un po' fuori dal comune, addirittura più dei suoi parenti pappagalli in generale. Non sappiamo dai nostri amici che abbiamo a casa, o comunque, vi ho sempre detto su questo canale, che i pappagalli sono veramente intelligenti, ma penso che lo sappiano in molti. Questo pappagallo si pensa che sia diventato particolarmente intelligente anche grazie alla sua alimentazione. Essendo comunque, in alcuni casi, semi-predatore, deve comunque ingegnarsi un po' per riuscire a guadagnarsi il cibo, perché, diciamo, non è che dispone proprio di armi potentissime come un rapace, come può essere un'aquila, ma quindi si deve un po' arrangiare se vuole recuperare qualcosa. Quindi questa intelligenza, si pensa, sia dovuta anche al suo stile di vita. Comunque gli scienziati si sono divertiti molto nello studiare questo pappagallo, e in cattività di metterlo alla prova con rompicapo, quindi facendogli risolvere dei percorsi, dei giochini, e si è visto che questo pappagallo è molto, molto, molto intelligente. Si direbbe proprio smart, bravo nel risolvere problemi. Questa capacità nel risolvere i problemi lo abbiamo visto principalmente nell'episodio del pappagallo Bruce. Questo povero Kea ha avuto una vita un po' sfortunata, infatti non si sa bene come. Si è portato via parte o quasi completamente la mandibola superiore, quindi senza becco quasi. Insomma, si è ritrovato in una situazione molto disagevole. Pensate un po', togliete il becco al pappagallo e che gli rimane. E hanno notato che non aveva tanto problemi nell'alimentarsi. Cioè, certo, direi, aveva i suoi problemi, però la mancanza più grande era la pulizia del piumaggio. Infatti non avendo più il suo bel becco non riusciva a pulirsi bene le fiume. E molti di voi penseranno, ma chi se ne frega, cioè, cavolo, pensa a mangiare prima, che te ne importa di farti bello? E invece, nei pappagalli o comunque negli animali che utilizzano livree sessuali, l'apparenza è molto importante, soprattutto quando c'è dietro una scelta del partner, da parte della femmina. La femmina non andrà mai a scegliere un maschio senza becco e con un piumaggio brutto, perché è segno di poca salute, di alimentazione sbagliata e quindi di conseguenza geni che fanno schifo. In pratica è la selezione naturale, quindi la femmina andrà a scegliere i partner più in salute, più bello, più forti in alcuni casi, perché tramanderà dei geni migliori per la prole. È così che funziona. Quindi tutti questi animali che ragionano secondo questo modello, diciamo, hanno bisogno di farsi belli. E quindi questo povero pappagallo, Bruce, cosa ha pensato? Ha pensato, vabbè, ho perso il becco, utilizzo un attrezzo per risolvere questo problema. Infatti questo pappagallo andava a scegliersi tutta una serie di sassolini ed utilizzarli per pulirsi le piume. Questi sassolini non erano presi a caso, erano scelti in base proprio alle misure, a seconda del punto anche in cui doveva pulirsi, quindi sceglieva proprio il sassolino giusto. E quindi sì, bravo Bruce e questi pappagalli sono davvero intelligenti, ma l'intelligenza e il sapere portano sempre delle conseguenze. Perché, come abbiamo sempre detto spesso nel canale, l'intelligenza dei nostri pappagalli è sì, un dono, è una cosa bellissima per chi impara un sacco di cose, perché appunto ci divertiamo con loro a insegnargli cose e sono molto pratici, molto intelligenti. Sì, tutto bello, però l'intelligenza porta il nostro pappagallo a dover avere degli stimoli, che possono essere stimoli dati dall'ambiente o stimoli dati in cattività da noi, dall'allestimento della gabbia, e quindi dall'interazione. Questi pappagalli si annoiano molto quando non hanno grandi cose da fare, quindi giocano tra di loro, quindi sono buffi quando giocano, e in alcuni casi sfociano questo annoiarsi, la loro curiosità, nel rompere tutto. Guardate qui questa povera macchina polizia, proprio distrutta da questo pappagallo, oppure vanno in giro a vandalizzare tutto e a rubare cose ai turisti, insomma si rivertono molto a fare dispetti e a rompere auto. Quindi se mai andrete in Nuova Zelanda andate con un car armato, perché altrimenti tornate con metà macchina e non è piacevole, credo. Parliamo un po' però di questo pappagallo inserito nella vita sociale con altri suoi simili. Quindi sono pappagalli non molto gregari, quindi stanno in piccoli gruppi, diciamo non gruppi grandissimi, però vanno abbastanza d'accordo tra di loro, quindi giocano insieme, insomma si diverte. La femmina è in grado di deporre circa dalle 2 alle 4 uova, e i nidi vengono fatti nelle cavità, che possono essere cavità nella roccia a terra, che possono essere cavità degli alberi, o comunque in posti riparati, perché cavolo, vivono in montagna, quindi diciamo che le piogge possono essere abbondanti e il vento può essere abbondante, quindi le uova devono essere un po' protette da tutte queste intemperie, che vengono covate per circa 29 giorni, un mesetto, e una volta che i pulcini poi hanno raggiunto un mese di vita, sarà il padre a prendersi cura di loro. Quindi abbiamo il padre che si occupa delle cure parentali, una cosa, insomma, interessante, e quindi sarà il babbo a dare da mangiare ai piccoli, e a sfamarli, a pensare, insomma, alle loro necessità. L'ultima parte di questo video, come sempre, la voglio dedicare un po' alla situazione attuale di questi papagalli, quindi metterò qualche immagine, diciamo, che sia bene con il contesto di cui andiamo a parlare. Ad oggi il Kea, purtroppo, come spesso si vede nei papagalli, è a rischio di estinzione, quindi è vulnerabile all'estinzione. Questo per centinaia di motivi. La maggior parte sono il contrasto che c'è stato tra questi papagalli e l'uomo. Abbiamo detto cosa fa? Distrugge tutto, attacca le pecore in alcuni casi, ti mangia sicuramente un coniglio se lo trova a giro. Quindi il problema si è creato principalmente con allevatori, contadini della zona, che vedevano questi papagalli come effettivamente una minaccia e come una rottura di scatole. Quindi sono stati cacciati per sterminarli, quindi non per la carne o il piumaggio, però venivano cacciati proprio per eliminarli dalla zona, quindi come entrava nella proprietà una fucilata e via. Come molto spesso è stato fatto anche qui in Italia con tante altre specie. Possono essere le volpi, donno, le faine che entravano nell'orto e il cacciatore tirava una fucilata. Tanto la nostra risoluzione a tutto è sparare ad ogni forma di vita. Ecco, è sempre stata la nostra risoluzione. Naturalmente oggi non si può più fare, non si può più sparare a Ikea, per fortuna, e neanche alle volpi e alle faine. E c'è un programma di recupero che sta dietro a questi papagalli e quindi che cerca di risanare questa situazione. Ad oggi non si sa bene quanti siano effettivamente gli esemplari in natura, perché è difficile anche tenere traccia visto il luogo, ma comunque, ragazzi, fidatevi, sono davvero pochi. Se volete vedere un Ikea, andate al Parco Natura Viva perché ho avuto la fortuna di vederli, là ce li hanno. Sicuramente poi dopo la descrizione che vi ho dato in questo video sarete anche un po' curiosi di vedere se non li conoscete questi papagalli molto strani. Quindi Ikea, poveretto, vita sfortunata in contrasto con l'uomo veniva proprio data anche una ricompensa a chi cacciava più Ikea. Pensate un po', quindi la sua popolazione è diminuita. Poi naturalmente i cambiamenti climatici e tutta una serie di processi antropologici hanno portato ad un'ulteriore diminuzione come in tutte le specie del mondo e di conseguenza la situazione è brutta. In cattività si vedono spesso, quindi nei parchi, sono molto comunque presenti nei parchi di tutto il mondo. Non se ne vede molti in cattività, come pet, perché insomma capite bene che l'alimentazione e lo stile di vita dei papagalli è un po' particolare. Non so bene se ci siano effettivamente come pet, ma coraggioso che l'ha presa. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Vi lascio tutto qua sotto in descrizione, il mio Instagram, la pagina delle Marimero Toys, la pagina di Psittacus. Insomma, come sempre, ciao a tutti!